Ciao a tutti ragazzi, interrompo subito chi è entrato nel video incazzato come una iena percolato a Stelli del bugiardo. Premetto che il mio sogno da ragazzino era quello di conoscere Stelli, perché lo reputavo il creatore di molti dei miei supereroi preferiti, e dei miei in generale personaggi preferiti dei fumetti, anche i comprimari e le storie Marvel. Bene, crescendo ho scoperto che non è così, e ci sono rimasto notevolmente anche male. Ciò non toglie che Stelli è bravo a sapersi vendere, perché quell'idea che ci sia una persona soltanto dietro a tutto quanto è proprio quello che genera il fomento nei ragazzini come ero io, e magari molti di voi che hanno aperto il video incazzati come iene. Ora, andiamo diretti al suodo a vedere perché Stelli è un bugiardo, e andiamo a scoprire chi ha realmente inventato Goblin in quanto Norman Osborn. Prima però ragazzi, mettete un like, condividete il video, andate in descrizione, apritela, trovate un link, cliccatelo. In questo link c'è un'intervista di Stelli del 2017 dove racconta questa storia che io andrò a riassumere. Questo giusto per supportare il canale e per avere la prova che io non dico fregnacce. Fin dagli anni 60, quando Stelli è stato interrogato sulla nascita di Goblin, lui ha dichiarato una cosa. Io volevo che il personaggio di Goblin si rilevasse essere Norman Osborn, perché personaggio conosciuto dai lettori, perché padre di Harry Osborn, e perché questa dinamica avrebbe potuto generare tanti spunti per storie future, come in effetti è stato. Le cose che dichiara invece Stelli a proposito di Ditko è che Steve Ditko non voleva che accadesse questo, perché Ditko credeva, come ha rilasciato in diverse interviste, anche lui stesso, che è più realistico quando sotto la maschera di un criminale, per svelare un mistero, ci sia un personaggio a noi sconosciuto, perché nella vita reale le cose funzionano così. Mai parole più sagge da parte di Ditko. Ma, in questo caso, è stato veramente così? Ditko si è rifiutato, perché la storia, come sempre, anche nell'articolo che trovate linkato in descrizione, continua sempre con, polarizzati in queste due ideologie agli antipodi, Ditko e Stelli, arrivarono a discutere, arrivarono al punto che Ditko se ne andò via perché non voleva accedere a questa cosa, e dato che Stelli, come lui sottolinea, sono l'editore e quindi la spunto io, ingaggiò Stelli e Romita e, insieme, il numero dopo la cacciata di Ditko, Goblin si tolse la maschera e si scoprì essere Norman Osborn. Bene, Ditko ha dichiarato che non è così. Per quanto lui ritenga a ragione che è più realistico se sotto la maschera ci sia una persona che non conosciamo, soprattutto in una città come New York, dove ci stanno 10.000 abitanti, può essere che tutti quelli che ti vogliono morto sono amici, parenti, colleghi, genitori, tuoi amici, è un po' esagerata come cosa e viene tuttora derisa molto spesso per quanto riguarda questi supereroi. Però Ditko aggiunge anche che no, nel caso di Norman Osborn ero io stesso ad aver creato il concept del personaggio, ad averlo caratterizzato e a volere che fosse lui il vero volto di Goblin. Chi ha ragione, chi ha torto, l'unico modo per scoprirlo è andando a leggere i fumetti, andando a leggere nel dettaglio, ricordandoci che il metodo Marvel all'epoca era quello che il disegnatore faceva totalmente la storia e poi lo sceneggiatore, nel caso di Stellini, o chi scriveva al posto suo perché effettivamente Stellini anche sempre scriveva, riempiva i disegni con le parole. Ricapitoliamo quelle che sono le prime apparizioni del Goblin. La prima è nel numero di Amazing Spider-Man 14, nella storia The Grotesque Adventure of Green Goblin. Allora, in questa storia noi ovviamente vediamo il carattere del Goblin con la scopa, non ancora con l'aliante, dove ancora non sono stati settati tutti quanti i suoi poteri. E in questa storia il Green Goblin contatta un produttore cinematografico, lo esorta a creare un film basato sull'uomo ragno, dove lui gli dice di offre l'opportunità di avere l'uomo ragno, e sul set cinematografico lui, insieme ai Duri, quel trittico di criminali molto stile, diciamo, Ditko per i primi nemici dell'uomo ragno, criminali quindi assolutamente normali, con delle abilità particolari ma del tutto umane, cercano di fermare l'uomo ragno, di catturarlo e di sconfiggerlo, perché l'uomo ragno è un ostacolo ai piani di conquista del Green Goblin. Soltanto che alla fine di questa storia arriva Hulk, che mette tutti i cappò con il solito fare Hulkesco, e Goblin fallisce nella sua cattura dell'uomo ragno. Ovviamente il volto di Goblin alla fine di questa storia rimane oscurato, che è una cosa tipica poi dopo, come anche a livello di inquadrature, che troveremo anche in diverse storie dedicate anche all'Op Goblin. una immagine storica che viene ripresa anche da Stern per quanto riguarda l'Op Goblin, è il volto del nostro super cattivo preferito, nascosto da un apparecchio di questo genere. La storia successiva è la sempre mitica, sempre verde, ha ha, Green Goblin verde, The Return of the Green Goblin. Una storia simpaticissima, in cui Flash Thompson, con il suo fan club dedicato all'uomo ragno, invita l'uomo ragno ad un festival, fitto in un teatro, un locale, una cosa del genere. L'uomo ragno si presenta qui, e insieme a lui si presenta anche il Green Goblin. Ovviamente si presenta anche Johnny Storm, questa storia è stata poi ricreata da Byrne, vabbè, ma non ci interessa. Qui è importante per Green Goblin come personaggio, perché vediamo l'entrata in scena di quelli che sono tutti i suoi punti caratteristici, come ad esempio l'aliante, l'abbandono della scopa, che era abbastanza ridicola, in favore di un aliante, molto più comodo e molto più anche spaventoso, dalle forme di pipistrello, e tanti dei suoi poteri. Vediamo le dita che scaricano scintille, che scarica elettriche, che avevamo visto anche all'inizio su questa storia, ma non in azione. Vediamo dei rospi, rospi che tagliano le corde e le tele dell'uomo ragno. Vediamo dei pipistrelli che sparano ombre, molto fighi. Vediamo le ormai classiche bombe zucca, e vediamo anche dei fantasmini che intrappolano Johnny Storm, levano l'ossigeno e quindi non gli danno la possibilità di bruciare la sua fiamma. Alla fine di questa storia ovviamente il Green Goblin viene sconfitto, ma non definitivamente, perché scappa e l'uomo ragno non riesce ad acciuffarlo. La storia successiva, che è già molto importante per la nostra disamina, è Il Folletto e i criminali, a mezzo in Spider-Man numero 23, aprile del 1965. In questa storia Goblin vuole arrivare al potere criminale su New York, è quello che è un po' la sua volontà basic che tutti conosciamo, e ovviamente non ce la fa, per varie diatribe che gli impediscono di avere il successo. La peculiarità di questa storia per la nostra disamina, però, risiede in due cose. La prima riguarda il personaggio di Foshwell, che è un giornalista del Daily Bugle, che nelle prime storie si è scoperto essere Big Man, uno di questi grandi boss nuovi, mascherati, che voleva il dominio su New York. Ora, è stato un gioco forte, che poi viene sviscerato nel prossimo numero, da Stellie e da Ditko, a questo punto possiamo dire, quello di voler mostrarci il dubbio che Foshwell possa essere effettivamente il Goblin, o comunque nascondesse ancora un grande mistero. Nel prossimo numero vedremo la conclusione di questa storia, e perché è un punto importante, come vi dicevo. L'altra cosa più importante è che qui abbiamo la prima apparizione grafica di Norman Osborn, in queste due vignette. Come vedete il setting è quello del Club dei Milionari, e esattamente sotto Goblin fa la prima comparsa Norman Osborn. La prossima storia, invece, è Amazing Spider-Man numero 26, la maschera del signore del crimine. E qui ci ricolleghiamo col discorso fatto prima legato a Foshwell, e la sua importanza nella storia. Perché nel corso di tutta questa storia, Goblin e il signore del crimine vengono appatti insieme, l'uomo ragno è convinto che Foshwell sia il signore del crimine. E quando si arriva a smascherarlo, però, viene scoperto che il signore del crimine è in realtà qualcuno che nessuno conosce, in pieno stile d'Itko. Come era la sua volontà? Foshwell in quel caso non era più un criminale, aveva iniziato a fare il bravo giornalista, e anzi stava seguendo una pista, utilizzando delle maschere e delle cose che, in maniera molto intelligente, riuscivano ad ingannarci durante la lettura, a farci credere che potesse essere lui. Però rimane il dubbio su chi sia l'identità segreta di Goblin, e qui abbiamo due vignette cardine, che purtroppo, nella nuova colorazione, quella che ho trovato in rete, perdono un po' di significato. Ora ve le mostrerò in entrambe le versioni. In prime tavole vediamo Norman Osborn, sempre al club dei miliardari, incalzare Jemson con una battuta in spirito, cosa che fa anche nella terza e ultima tavola. Mentre invece, nella fine, all'ultima pagina, vediamo questo uomo in ombra, con la maschera di Goblin in mano, maledire l'uomo ragno, invocare la sua distruzione. Benissimo! Ma se andiamo a vedere la vecchia colorazione, se la luce me lo permette, voi potete vedere questo Norman Osborn, con vestito marrone, marrone di arrea, e cravatta azzurrino, parlare con Jemson, come nella vignetta che ho fatto vedere prima. E nell'ultimissima tavola, l'uomo, con la maschera del Goblin, indossa esattamente lo stesso completo marrone, e la stessa cravatta blu. Queste sono cose che può fare soltanto Ditko, il disegnatore, perché lo scrittore non aveva molto influenza. Ma andiamo alla parte seria. Il penultimo numero di Ditko, quello che precede di una sola storia, lo showdown di Norman Osborn come Goblin. Questa è la storia probabilmente più importante di quelle che andremo a trattare, perché è C'era una volta un robot. La storia di presentazioni di quel grandissimo personaggio che è il Mandelstorm, il signore dei robot, cioè un collega di Norman Osborn con il quale ha fondato le Oscorp, a cui Norman ha rubato le idee e l'ha fatto arrestare. Quindi in questa storia noi vediamo per la prima volta il carattere di Norman Osborn. Questa sua volontà criminale che lo porta a fare qualsiasi cosa, soprattutto del male a delle persone, pur di riuscire nei suoi scopi. Guardatelo tutto su daticcio, stretto in quel completo verde, mentre si caga in mano che qualcuno scopra la sua truffa e i danni di Storm. Cosa di cui si preoccupa per tutto il resto della storia, visto che Storm lo vuole fare fuori. Al punto che per non essere scoperto e come lui stesso dice, per evitare che l'uomo ragno intralci nuovamente i suoi piani, lui decide di dargli una botta in testa mentre sta per salvarlo. Mentre l'uomo ragno lo salva, cioè questo è un atteggiamento un po' cattivo, ma in realtà queste sono battute, non è questo che ci fa credere che lui sia Goblin. È quello che fa dopo, quando decide di mettere fine a tutto quanto. Cioè sparare a Storm. Sparare a Storm da una finestrella. Ora, come dice benissimo l'uomo ragno, chiunque abbia sparato a Storm lo ha fatto da una finestra in alto sopra, verso i 4 metri sopra di loro e è andato via la velocità della luce, non ha lasciato segni di corda, né rumore di elicotteri, né scale. Quindi chiunque sia stato a sparare a Storm lo ha fatto attraverso un congegno relativamente silenzioso che lo ha portato molto in alto e che è una persona altrettanto spietata e criminogena. Chi ha, secondo voi, un congegno come ad esempio potrebbe essere un aliante che lo porta in alto? Chi ha la spietatezza criminale e il movente per ammazzare Manda Storm? Ovviamente il nostro carissimo Norman Osborn che con un fucile in mano ci ricorda che ora la persona a fare fuori è l'uomo ragno. E solo due numeri dopo dalla scena che abbiamo appena visto, signori, Stan Lee allontana Steve Ditko dalla sua creatura l'uomo ragno dicendo al mondo che aveva fatto questo per poter smascherare in santa pace Goblin e farci vedere a tutti l'identità di Norman Osborn quando, come appena avete visto, signori, Norman Osborn è sempre stato Goblin non per opera di Stan Lee ma per opera di Ditko che aveva già inserito in queste storie tutti gli elementi cardini del personaggio. Bene, il video è finito spero che gli amanti di Stan Lee non siano rimasti troppo scottati da queste verità perché sono cose così semplici e normali non dovremmo arrabbiarci per certe cose anzi dovremmo farci una risata e soprattutto dovremmo rivolgere i nostri grazi ad ora in poi non a Stan Lee ma a Steve Ditko l'uomo che ha inventato il nostro supereroe preferito almeno il mio e probabilmente anche il mio e spero anche il vostro supercriminale preferito ciao a tutti